partiti il leggero ritardo Cielo che rimane attardato insieme a Remember Down più veloce al comando è Jamais che figura in leggero vantaggio a centropista avendo all'interno Lady Jungle e Dr. Raid all'esterno invece Mary Bambi con vicino Ismael segue in seconda linea Black Widow più staccati gli altri due siamo a 450 dal palo Jamais in leggero vantaggio sotto l'attacco esterno di Ismael e interno di Dr. Raid siamo a 200 dal palo con Dr. Raid che è in leggero vantaggio nei confronti di Ismael e quindi all'argo di tutti anche Mary Bambi nel tratto finale Dr. Raid Dr. Raid che si impone su Mary Bambi Ismael al terzo posto andiamo a rivedere le immagini che ci ripropone la facile affermazione del numero due dello schieramento Christian Di Napoli in sella Dr. Raid che emerge nel finale al posto d'onore Mary Bambi con il sette al terzo chiude il quattro di Ismael quindi due sette quattro il probabile ufficioso arrivo della quinta corsa di Napoli Grazie a tutti Grazie a tutti